La vittoria danno sempre un pizzico di più di entusiasmo, di voglia, di autostima e quindi sicuramente la settimana è importante, abbiamo avuto la possibilità di preparare nel modo migliore questa trasferta di Catania, sappiamo che è un derby molto importante e quindi la vittoria sicuramente ci ha spinto a dare qualcosina in più, a fare meglio, a lavorare con più tranquillità e serenità. Un Trapani-Gagliardo, un Trapani che va a Catania e gioca la partita a viso aperto come siamo abituati a fare, Garibaldino che non si tira indietro, il derby ti dà sempre qualcosa in più a livello di adrenalina, a livello di temperamento, a livello caratteriale e quindi c'è bisogno di attingere a queste qualità per cercare di fare una grande partita e se dovessimo fare una grande prestazione sicuramente potremmo ambire a fare un grande risultato. È un campo che conosco, ho avuto la possibilità di fare tanti derby con il Palermo, con il Messina e quindi è un campo che conosco, un campo che ti dà anche la adrenalina giusta per disputare la partita a chi scenderà in campo dal primo minuto e chi subentrerà perché si respira aria di calcio vero, di campi seri, di campi importanti che hanno fatto anche grande storie e blasone della Sicilia quindi sarà un prestigio per tutti appunto andare a disputare questa gara. È una squadra che è in salute, chiaramente non sta collezionando risultati positivi ma sicuramente grandi prestazioni quindi è una squadra che ha elementi importanti, individualità che l'anno scorso hanno fatto molto bene, è squadra di categoria quindi sicuramente da prendere con le pinze e da avere l'approccio giusto perché non ritengo che il Catania sia in difficoltà, anzi tutt'altro. Tutti convocati tranne Zuppel e Valietti che non siamo riusciti a recuperare per via dei guai muscolari però siamo al completo, abbiamo recuperato gli infortunati, abbiamo recuperato gli squalificati, Crimi e Silvestri quindi sicuramente andremo con il gruppo coeso e compatto per domani decidere la migliore formazione per affrontare il Catania.